Va bene, ok, dopo questa... Succede solo a Fumetopoli! E allora, io vorrei che i premi con migliore interpretazione Sì? Li desse il nostro doppiatore di fiducia Di fiducia? Ok, vado a chiamare Gianluca Iacono È vero da ieri, cannaccia Che... perché mi hai dato il foglio? Devi chiamare te? Devo chiamare io? Sì Non ti fai questa? Come reggi, premiali come reggi No, prima presenti il tipo di premio Come farebbe la voce di Disney XD E poi dopo come reggi i premi Oppure puoi fare un premio come reggi O un premio come Yuzza Ascolta, reggi il premio, Magda Reggi Pelle toga proprio, basta Lo sbaglio Prima Secondo premio Secondo premio interpretazione a Fumetopoli Ma non c'è È un fake Epic fail per Valenzo Belluzzi Ma è un fake, è scritto male Il secondo lo spazio dal primo Tantotto Prima si provi al secondo L'ordine è così lento Sono in ordine di premiazione Il premio interpretazione del secondo posto va Al gruppo Il mistero della pietra azzurra Ecco il carino Ecco il carino Ilповore della pietra azzurra Ilthero della pietra azzurra L'ordine è così lento È un certo È un certo È un certo Il professor della pietra azzurra È un certo È un certo D'adunccio Il terzo di girale Grazie al gruppo del mistero della pietra azzurra che si è giudicato il secondo posto come premio migliore interpretazione e mi accingo, ci ho preso la mano, e mi accingo a premiare il primo classificato del premio migliore interpretazione. Quanto è bravo questo ragazzo? Eh? Ma che stai? Dopo dei 2,50 euro, mamma. Quindi il primo posto per il premio interpretazione vai i numeri X, fai un urlo. No, io domani devo lavorare, io fai un urlo, ho capito, devo fare 600 righe di spigare di Beyblade. Eh, 600 righe! Non quel tipo di righe, sono altre, quindi poi, facciamo quello. Va quindi al gruppo X-028 che sono i Rabbids da Raymond Raving Rabbids! Aspetta, scusa, 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 vorremmo un attimo, un attimo, vorremmo una piccola dichiarazione al microfono. Fermi, grazie. A regi. Fai uno scambio. Queste scene guliardiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, che stai facendo? Ringraziamo il gruppo. E ringraziamo il gruppo X-028 che ha paura. E andiamo. E andiamo avanti con il miglior gruppo, Iapo. No, adesso grola la fume top. Iapo, Iapo premia. Lascialo là. A premiare i miglior gruppi, i cosplayer, witty. Aspetta, più sotto, più sotto, un attimo. Un attimo. Il secondo classificato per il premio miglior gruppo è il gruppo numero X-004 Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII. 13. 13. Sara, Pietro, Laura, Daniele, Riccardo. Eh, sei già. Eh, tre. Facciamo un minuto di silenzio. Sono andati a casa. Perché? Perché è fin da sopra. Ah, che che è? Vabbè, gliela consiglieremo. Si premureremo di fargli avere il premio.